La scena madre del film Tutte le storie di Piera, quella che dici secondo me, è la scena quando lei rievoca l'incontro tra Marco Ferreri e sua madre in manicomio. Da lì due poli, una madre sofferente che ha cresciuto Piera, l'ha fatta diventare quella che è diventata e Marco Ferreri, il regista importantissimo che poi ha dedicato un film sulla madre. Quella che mi è saltata adesso in testa, che è uno dei miei film preferiti, il capitano mio capitano di L'attimo fuggente di Peter Weir, che secondo me è uno dei più bei film. Guarda, mi piacerebbe bloccare il centro di Cagliari e girare musical, una scena musical, però la via principale che è impossibile da bloccare però la vorrei bloccare. Grazie. 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 Grazie.